Si intitola Uniti nel cuore la festa di Natale di solidarietà che vedrà protagonisti le giovani categorie di professionisti della città di Napoli. Lanciata, promossa ormai come di consueto dai giovani di Confindustria, preseduta naturalmente l'associazione da Susanna Moccia, ma con la collaborazione attiva da parte di tanti altri ordini professionali, i commercialisti, la Confapi, i giovani dell'Aiga, quindi i giovani avvocati, ma anche i farmacisti, gli ingegneri, tante associazioni per aiutare chi ha bisogno. In particolar modo quest'anno l'incasso della serata sarà devoluto da un lato ad un'associazione che si occupa di senza fissa dimora, il che servirà a costruire delle docce per i clochard, dall'altro lato invece per i bambini o le persone che soffrono purtroppo di autismo. Ai nostri microfoni i protagonisti che ci illustrano i dettagli della festa che si eterrà il 21 dicembre a Castel Sant'Elmo. Presidente Susanna Moccia ritorna all'appuntamento con la festa di Natale, sempre nel segno della solidarietà, anche quest'anno però c'è la collaborazione con altri ordini rappresentativi della città di Napoli, soprattutto dei giovani. Abbiamo voluto confermare questa nostra unione con il gala di Natale, rifacendolo la stessa data dell'anno scorso e quindi il 21 dicembre. Siamo pronti ad accogliere tutti ma quest'anno abbiamo voluto decidere, abbiamo voluto devolvere la nostra festa di beneficenza a due associazioni, proprio perché siamo tanti abbiamo detto non ci chiudiamo solamente verso una e quindi ecco che ne abbiamo scelte due. Una sempre per i bambini perché cerchiamo di donare qualcosa a chi è meno fortunato che sarebbe il nostro futuro e quest'anno ci sono i bambini autistici. L'altra associazione invece sono i bambini senza tetto, senza fissa di muro e quindi costruiremo per loro delle docce. Avendo anche i ragazzi dell'Ascen costruiremo materialmente mattoni su mattoni quelle che sono le docce, la possibilità di dare loro giornate un po' più felici. Gianluigi Barbato anche quest'anno tocca a te l'organizzazione di questo grande evento, dacci qualche dettaglio sulla festa che si terrà lunedì sera. Quest'anno abbiamo scelto una location molto particolare, io lo definisco un Tetris, in quanto ci sono tantissime cose da incastrare per l'allestimento, per le luci, per il sound. Abbiamo scelto questa location perché è molto particolare del 1500 e ricreeremo attraverso luci e suoni un'atmosfera davvero speciale. Mai come quest'anno tutte le associazioni più importanti del suo partito europeo hanno partecipato con noi, per me questo è il motivo di grande orgoglio coordinare questo gruppo. In breve la serata si svolgerà con una light dinner accompagnata dalla band jazz, avremo poi dopo musica, free bar, un po' diciamo la solita formula però condita un po' da altri piccoli dettagli. Alla fine poi abbiamo scelto quest'anno il gold come accessorio per il vestiario, elegante per gli uomini, abito lungo per le donne e speriamo che i nostri ospiti saranno soddisfatti. Stiamo veramente lavorando allacremente a questo evento. Dimitri Senofonte è anche quest'anno aderito a questa bella iniziativa, un Natale di solidarietà promosso dai giovani, attivi e professionisti da nostra città. Un Natale di solidarietà dove noi coinvolgeremo tutte le nostre forze economiche e finanziarie, ma soprattutto sociali e morali nei confronti di Angeli di Strada e TMA Group che aiuta i bambini autistici. Uno scopo è quello della solidarietà, un altro scopo intrinseco è quello della sinergia tra associazioni. Fare rete per la solidarietà, anche quest'anno i commercialisti aderiscono a Uniti nel Cuore. Noi siamo onorati di poter aderire a questa iniziativa che mette insieme diversissime sigle, ci sono le associazioni datoriali e ci sono tutti i professionisti. Fare rete per noi giovani sta diventando una necessità. Presidente, anche l'Aiga partecipa quest'anno a questa lodevole iniziativa, Uniti nel Cuore. Sì, una bellissima iniziativa che ci vede partecipi insieme alle associazioni datoriali, alle rappresentanze giovanili dei giovani di Confindustria, i giovani di Confcommercio, i giovani di Confapi e dei giovani costruttori insieme alle altre rappresentanze dei giovani professionisti, notai, commercialisti, ingegneri, farmacisti e avvocati, a favore di un'iniziativa benefica per Angeli di Strada e per il gruppo di terapisti che aiuta i bambini autistici napoletani. È un'iniziativa che segna una sinergia tra le varie associazioni che fanno rete sul territorio e che sicuramente ci vede protagonisti ora e per tutto il corso dell'anno prossimo. Grazie a tutti.